Pace e bene di Fr. Alessio Bognolo. Voglio informare tutti voi che mi seguono su questo canale di una realtà che forse non conoscete. Faccio parte di un ordine militare cattolico per difendere i cristiani perseguitati nel mondo si chiama Ordo Militares Cattolicos e abbiamo un canale su YouTube dove facciamo molti programmi in linguaggio inglese si chiama Ordo Militares Radio TV e si trova su YouTube su quel canale. Abbiamo soltanto 400 seguaci su quel canale quindi se conoscete l'inglese va a quel canale. Now for those of you who speak English you may not know if you are following me on my channel that I'm a member of a Catholic military order called Ordo Militares Cattolicos this is our insignia here and we have a YouTube channel called Ordo Militares Radio TV that's O-R-D-O-M-I-L-I-T-A-R-I-S Radio TV all one word you do youtube.com slash and you put that and we have a channel there we've done more than a hundred programs in English speaking language on all kinds of topics history and stuff we've recently done a whole long series on Masonic infiltration in the Vatican we're doing one we've done a whole long series on the Masonic banks of New York and how they've controlled world history in the last century you'll find these programs very interesting so if you like a little of what I do on this channel which is very little at all go to the other channel where nearly all the programs you see me and AJ Bauman discussing these topics quindi se avete interesse e conoscete l'inglese su Ordo Militares Radio TV metterò il collegamento nei noti di questo video si trova più che cento programmi in inglese con io e il signor Andrew Bauman che abbiamo fatto sulla storia sulla storia della masoneria in particolare per la storia militare anche grazie a tutti voi